Ciao a tutti amici di iPhone Italia e ben ritrovati in questo nuovo video. Dopo aver portato il chip W1 su Power Beats, Beats X e Beats Solo 3, finalmente Apple si è decisa a introdurlo anche nella gamma studio, presentando all'incirca i primi giorni di settembre le Beats Studio 3 Wireless, un prodotto veramente molto molto interessante che è arrivato sul mercato all'incirca un mese e mezzo dopo più o meno, intorno al 15-12 di ottobre se non ricordo male. Siamo riusciti ovviamente ad accappararci in una copia, le abbiamo provate veramente in lungo e in largo ascoltando tantissima buona musica e siamo finalmente pronti a darvi la nostra impressione, subito dopo la sigla, la nostra recensione. Le Beats Studio 3 Wireless sono una tipologia di cuffie over-ear, quindi a differenza delle Beats Solo 3 riuscirete a coprire per intero tutto il vostro orecchio, questo di fatto vi garantisce un buon isolamento passivo già di per sé, per cui se vivete in una casa fondamentalmente poco rumorosa o comunque in una zona poco rumorosa, non sentirete mai la necessità di utilizzare tra le vostre mura la cancellazione attiva dei rumori di fondo. Se invece volete uscire a fare due passi, Apple ha pensato di introdurre in queste nuove cuffie una tecnologia che è simile alla cancellazione attiva dei rumori di fondo, ma che chiama Pure Adaptive Noise Cancelling, ovvero una tecnologia che va a cancellare sì i rumori di fondo, ma lo fa in maniera adattiva, ovvero adattando il livello di cancellazione dei rumori di fondo a quello che è l'ambiente circostante. In poche parole, se voi siete tra le vostre mura di casa, questa tecnologia sarà un pochettino meno invasiva. Se invece voi uscirete fuori, avete a fianco, che ne so, un traffico bestiale, un cantiere rumorosissimo, allora in quel caso le cuffie intervengono cancellando ovviamente per quanto possibile tutti quelli che sono i rumori di fondo. La vestibilità di questo prodotto è veramente ottima. Io devo dire che le ho usate per tantissimo tempo, le ho usate con gli occhiali da vista, con gli occhiali da sole, e non ho mai sentito una sorta di fastidio. Sono riuscito anche a indossarle per sessioni veramente molto molto lunghe, anche di due, tre, quattro ore filate, senza che in qualche modo le cuffie mi restituissero quella sensazione di calore, di fastidio tale, per cui ho sentito la necessità di toglierle. No, questo non è mai accaduto, grazie, devo dire, anche alla conformazione e all'imbottitura delle cuffie stesse, perché sull'archetto superiore troviamo un morbido cuscinetto che in qualche modo attutisce il peso della cuffia sulla testa e sopra i padiglioni ci sono anche lì due morbidissimi cuscinetti molto molto devo dire tozzi che anche loro in qualche modo rendono la cuffia veramente molto molto confortevole. Queste cuffie sono anche dotate di una vasta gamma di comandi, sia sul padiglione sinistro che sul padiglione destro, che vi daranno ovviamente accesso a tutte quelle funzionalità che sono indispensabili per un paio di cuffie di questo tipo e che ovviamente vi eviteranno nella maggior parte delle volte di dover tirare fuori il telefono, il tablet, o insomma quello che state usando come sorgente di riproduzione. Sul lato sinistro delle cuffie è stato posto un grosso pulsante molto comodo da raggiungere che vi consentirà, premendolo una sola volta, di mettere in pausa o proseguire la riproduzione di un brano e se lo terrete premuto potrete abilitare Siri sia che stiate usando un iPhone che un iPad o piuttosto anche un normalissimo Mac. Sul padiglione sinistro è presente anche un foro di ingresso per il jack da 3,5 mm di modo da poter utilizzare queste cuffie anche in modalità passiva, nel qual caso la batteria sia scarica, ed è presente anche un piccolissimo led che notifica dell'accensione o della disattivazione della modalità adattiva di cancellazione dei rumori. Sul lato destro invece ritroveremo solamente il pulsante di accensione che può anche essere usato per effettuare il pairing con dispositivi non dotati di iOS o macOS e ritroverete anche 5 led che notificheranno lo stato di carica della batteria. All'interno della scatola di vendita veramente molto molto curata ritroveremo anche diversi accessori tra i quali un bellissimo case per poter portare le vostre cuffie ripiegandole all'interno. Ritoverete un cavetto jack da 3,5 mm ad entrambe le estremità dotato di un telecomando remote torque che vi consente fondamentalmente di fare le stesse cose che fate con i comandi a cuffia nel caso in cui vogliate utilizzarle con cavo o comunque in modalità passiva. Ritoverete anche il cavetto chiaramente di ricarica che è USB, micro USB e un pratico moschettone che vi consente fondamentalmente di agganciare il case in dotazione a uno zaino o una borsa insomma dove volete. Ma veniamo ovviamente al nodo focale di questa recensione perché chiaramente vi starete chiedendo come suonano queste Beats Studio 3 wireless. Partiamo dal presupposto che questo è un prodotto certamente non orientato ai semplici ascoltatori che la mattina quando vanno a scuola oppure vanno a lavorare ascoltano due o tre canzonette da YouTube oppure insomma il classico file mp3 convertito con un beat rate molto molto basso. È chiaro che queste cuffie si rivolgono ad un pubblico che non fa parte della sfera degli audiofili perché non potrei mai dire che queste cuffie sono in qualche modo apprezzabili da un vero audiofilo. Posso però dire che queste cuffie sono un prodotto molto molto apprezzabile per tutti quegli ascoltatori che vogliono quel qualcosa di più con la libertà chiaramente di un dispositivo wireless con la comodità del chip W1 e con in più la cancellazione adattiva dei rumori di fondo che è una funzionalità che veramente insieme a tutte le altre fa di queste cuffie un prodotto secondo me veramente veramente ottimo. L'audio in cuffia di queste Beats Studio 3 wireless è veramente veramente fenomenale durante tutti questi giorni abbiamo avuto modo di apprezzare la fantastica distribuzione del suono all'interno dei padiglioni auricolari ma soprattutto il grandissimo equilibrio di frequenze nonostante le basse frequenze tendano ad essere preponderanti rispetto a tutte le altre. Questo per alcuni è un male per altri un bene insomma qua ragazzi è puramente una questione di gusti ma ad ogni modo non è nulla di insormontabile in quanto vi basterà dai vostri dispositivi iOS andare ad agire sull'equalizzazione di sistema oppure nel qual caso voi stiate utilizzando un Mac vi basterà ad esempio scaricare un'applicazione di terze parti che io vi suggerisco ovvero Boom3D che vi consente di andare a fare un'equalizzazione accurata andando a regolare anche le singole forme d'onda un programma che vi consiglio e che vi lasciamo qua sotto in descrizione. Quello che però dona veramente a queste cuffie la massima godibilità in tutte le situazioni è come abbiamo già parlato prima la tecnologia che Apple chiama Pure Adaptive Noise Cancelling che va diciamo a introdurre una cancellazione di fatto un filtro per i rumori di fondo ma lo fa in maniera adattiva. Questa secondo me è stata una scelta molto molto intelligente perché questo filtro che di fatto i più grandi audiofili criticheranno a vita perché va a ledere in qualche modo va a modificare in qualche modo seppur in maniera minima il suono in cuffia interviene comunque in maniera molto molto intelligente in quanto come vi ho detto prima se voi starete a casa a sentire la vostra musica potete sì utilizzare la cancellazione adattiva dei rumori di fondo ma essa interverrà in una maniera molto meno invasiva discorso diverso invece nel momento in cui i rumori esterni si faranno molto molto intensi la cuffia interviene in maniera invece più intensa a cancellare questi rumori di fondo fastidiosi ma non fa solo questo perché questa tecnologia riesce in qualche modo anche ad equilibrare automaticamente il suono di modo tale da offrirvi in ogni condizione di utilizzo sempre il massimo possibile a livello di qualità di ascolto e questa cosa devo dire che funziona perché io insomma sono spesso passato magari ad esempio dal bus al treno poi magari andavo a fare due passi mi ritrovavo in mezzo a un traffico boia e devo dire che ho sempre percepito un equilibrio del suono generale veramente molto molto apprezzabile così come la qualità che mi ha sempre permesso di godermi al meglio tutta la mia musica preferita il volume in cuffia è decisamente bilanciato in maniera corretta non è troppo alto e questo fa sì che le cuffie non vadano a creare quel fastidiosissimo effetto di ronzio di distorsione che accade in cuffie di fascia pochettino più bassa e che in qualche modo io reputo veramente molto molto fastidioso e quindi in qualche modo secondo me voi non vi ritroverete mai a percepire una forma di distorsione all'interno della cuffia il chip w1 di apple beh direi che ormai lo conosciamo tutti pairing rapido facile e istantaneo su tutti i nostri dispositivi dotati di ios o di mac os vi basterà quindi nel momento in cui volete cambiare sorgente di riproduzione passare da un prodotto all'altro premere due semplici pulsanti ed ecco che il vostro prodotto e la riproduzione sarà trasferita su un'altra sorgente il chip w1 di apple garantisce anche una maggiore ottimizzazione dei consumi ed è proprio nell'autonomia di questo prodotto che troviamo uno dei grandissimi punti di forza di beats studio 3 wireless il produttore dichiara all'incirca una quarantina di ore di utilizzo senza la modalità di cancellazione dei rumori di fondo attiva che scendono a 22 con la tecnologia più adattivo noise cancelling attiva io ho provato queste cuffie per veramente tante tante ore e mi sento di confermare appieno questi dati che chiaramente poi differiscono leggermente a seconda del volume di ascolto e di tanti altri piccoli fattori ma sostanzialmente le cuffie raggiungono l'autonomia dichiarata grazie poi alla tecnologia fast fuel implementata da beats riuscirete con soli dieci minuti di ricarica ad ottenere ben tre ore di ascolto quindi se siete insomma in procinto di uscire di casa e vi ritrovate con le cuffie che sono scariche vi basterà veramente attaccarle per pochi minuti e riuscirete ad arrivare insomma al luogo di lavoro a scuola o dove dovrete andare ma veniamo ora alle considerazioni finali di questo prodotto le beats studio 3 wireless sono un paio di cuffie veramente fantastiche con una riproduzione musicale di alta qualità una tecnologia di cancellazione dei rumori di fondo intelligente e per mio conto tra le migliori che ho avuto occasione di provare in questi ultimi anni ma soprattutto una grande autonomia e chiaramente il chip w1 di apple che va in qualche modo a condire il tutto e a creare un prodotto a mio avviso non perfetto perché chiaramente qualche piccolo difetto ce l'ha è chiaro che per esempio la maggiore preponderanza di bassi può non piacere a tutti però insomma questi sono secondo me problemi marginali che si possono appurare prima dell'acquisto comunque anche dopo l'acquisto grazie come vi ho detto prima alla possibilità che da apple di rendere questo prodotto entro 15 giorni dalla data di acquisto queste cuffie hanno un prezzo di vendita al pubblico di 349 euro e 95 centesimi e sono disponibili in sei colorazioni è ovviamente un prezzo che impone qualche piccola riflessione nel senso che se voi siete interessati ad un prodotto beats vi piace il sound beats e volete il chip w1 volete una grande autonomia una qualità di riproduzione chiaramente eccellente e una tecnologia di cancellazione dei rumori di fondo efficiente beh questo prodotto è veramente il prodotto che fa per voi in alternativa se voi pensate di utilizzare queste cuffie con altri dispositivi dispositivi android o windows io a quel punto mi sento di suggerirvi di aprire un attimino i vostri orizzonti e valutare altri modelli di cuffie detto questo da lucan sevini e da iphone italia è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video ciao